Ciao amici dell'Enduro Vintage, la prima prova del campionato italiano di regolarità gruppo 5 si terrà il 7 aprile a Gaggio Montano, in provincia di Bologna. L'evento è organizzato dal Motoclub Alta Vallereno e si svolgerà su un percorso misto di sottobosco di circa 36 km, da ripetere per tre giri. La gara prevede un cross test vicino alla partenza e un Enduro Test più lontano. La prima prova speciale in linea, come da consuetudine nelle gare di regolarità gruppo 5, non sarà cronometrata. La segreteria di gara, il paddock, il parco chiuso e l'area training avranno sede presso l'area sportiva di Gaggio Montano. Le iscrizioni sono ancora aperte fino al 4 aprile attraverso il portale Sigma FederMoto. Ci vediamo presto a Gaggio Montano per la prima del campionato italiano regolarità 2024.